Quattro quadrati, un semplice gioco dove far rimbalzare la palla tra i quadrati. Ma se un fuoriclasse è detta alle regole, può succedere di tutto. Conta fino a sei! Conta fino a sei! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei! E ora angoli! All'alto! È in grado di affrontarlo? Eccolo lì, Toman. Allora, state tutti attenti. In questo giro le regole sono Medusa e... Scattante! Ehi, non vale, io non ero pronta. L'asso dichiara le regole, importa solo che sia pronto lui, quindi sei eliminata. Troppo lenta per Toman, anche detto il macina soldi. O anche il butta fuori, alias, devi avere almeno otto anni per entrare nel club fuori un documento. Non capisco perché deve chiamare tutte quelle regole assurde. Non importa, tanto io lo sconfiggerò. Sto attento, potrebbe deridere la forma della tua testa. Perché che ha la mia testa? Ah, niente. Buona fortuna, Craig. C'è un posto libero al quadrato numero uno. Avanti! Chi vuole prendere possesso di questo lotto? Eccomi. Per troppo tempo hai regnato su questo asfalto azzerando il divertimento del gioco. Sono venuto a batterti. Se lo dici tu, per questo giro le regole sono tabelloni, doppio uno e... In ginocchio! Sembra di giocare una vera partita, no? Guerra Lampo, bello mio! Quest'uscita Lampo è stata all'altezza del tuo nome. Per questo giro, jackpot! Parti del corpo e... Bomba! Cinque, quattro, tre, due, uno... Kaboom! Le mie caramelle! È evidente che sei fuori dai giochi, Bobby! Accidenti! Bene, bene, bene. Ormai un solo quadrato mi separa dal far rimbalzare fuori il tuo di dietro. Senti, testa d'arachide, tu non vuoi questo. Io so cosa voglio, rendere questo gioco di nuovo leale e divertente. Ed è esattamente quello che farò non appena prenderò il tuo posto. E la mia testa non è un'arachide. D'accordo. Questo round lo apparecchiamo per due. Solo tu ed io. Ragio salare! Non ci vedo! Palla! Io... Posso sentirti. Ce l'ha fatta. È lui il nuovo asso? Nuovo asso! Nuovo asso! Nuovo asso! Nuovo asso! Nuovo asso! Se l'hai fatta, testa d'arachide! Buona fortuna. Ne avrai bisogno.